Ben ritrovati dalla redazione di Infrontes Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1, tra Vadia e il Bivio A1 variante in entrambe le direzioni, code per lavori. Prudenza per la presenza di veicoli pesanti in avaria, fermi, carreggiata tra Firenzuola e località Aglio e tra il Bivio A1 variante e Vadia in direzione Firenze. L'uscita Firenze Sud provenendo da Roma è chiusa per lavori e verrà riaperta domani 27 luglio dalle ore 6. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. In via Pian di Giullari a Firenze per lavori dal lunedì 27 luglio in orario 9.18 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via della Torre del Gallo via Righini, termine previsto il 7 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!